Questa avventura mi aspetto di ampliare le mie prospettive, sia lavorative come linguaggio in generale. Alla fine non lo so, perché è una sorpresa, quindi vediamo, la vivo. Basta. La sensazione è da tremare, perché come ho detto anche l'entro, non capita tutti i giorni, quindi in certi casi mi sento quasi osservata, quindi lo stomaco si rigira quasi, si vedrà come andrà, sembrerebbe che sia andata bene, dai, ora si vede gli altri concorrenti come più vanno e poi si vede. Niente, ora mi rilasso, mi guardo la vacanza.